Achille Costacurta e Martina Colombari sembrerebbero aver fatto dopo le offese che Achille aveva rivolto alla madre, e le foto con strane polveri, postate su Instagram, tra i due parrebbe essere tornato il se... Colombari per giorni si era rifugiata nel silenzio social, lei che è sempre stata così attiva sul suo profilo Instagram per settimane non ha postato niente. Colombari per giorni si era rifugiata nel silenzio social, lei che è sempre stata così attiva sul suo profilo Instagram per settimane non ha postato niente. Poi sono tornati post, con frasi allusive al periodo che stava vivendo con il figlio, e infine nel video sorridono e sembrano sereni, lui in sovraimpressione ha scritto partner in crime. In questi giorni Martina era in vacanza in montagna, non è chiaro se con lei e il marito ci fosse anche il figlio. Questo video lascerebbe intendere. Achille è diventato molto noto. I due erano in coppia e se è vero che un viaggio del genere mette a dura prova anche i legami più sereni. Il loro fin dall'inizio è stato costa curta fin da piccolo ha avuto un carattere un po' difficile. Neanche lui ha mai negato le sue intemperanze, che lo hanno anche portato ad avere alcuni problemi con la legge. Soprattutto costa curta fin da piccolo ha avuto un carattere un. Achille fa dannare e urlare, ma anche ridere, come tutti i 18 anni, aveva rivelato Martina in un'intervista rivelando anche che l'effetto covid aveva comportato alcune difficoltà. Achille fa dannare e urlare, ma anche ridere, come tutti i 18 anni, aveva rivelato Martina in un intervista. Lo dico serenamente, chiedere aiuto non è un atto di debolezza, ma di grande amore per i propri. Su TikTok, costa curta è spesso criticato soprattutto dopo quanto su TikTok. Il 19enne non ha quasi mai risposto a nessuno di quei commenti, però forse ispirato da una ritrovata serenità con la madre ha deciso di replicare Achille aveva suggerito di andare a zappare. Il 19enne non ha quasi mai risposto a nessuno di quei commenti, però forse ispirato da una ritrovata serenità con la madre ha deciso di replicare Achille aveva suggerito di andare a zappare. In un filmato si vede lui mentre cerca di tagliare l'erba alta di un giardino, prima con una falce, poi con un taglio. Risposta a M. Iniziamo tagliando il prato della vicina, ha scritto a corredo di